c'erano una volta un vecchio uomo e una vecchia donna che avevano una gallina chiamata riaba un giorno la gallina depose un uovo ma non un uovo qualsiasi ma un uovo d'oro il vecchio lo colpì e ricolpì ma non riuscì a romperlo la vecchia allora lo colpì e ricolpì a sua volta ma non riuscì a romperlo un topo passò correndo e nell'agitare la coda fece cadere l'uomo e si ruppe il vecchio uomo e la vecchia donna piangevano e piangevano e la gallina disse schiamazzando non piangere vecchio non piangere vecchia deporrò per voi un nuovo uomo non un odore ma uno normale